Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Royale per andare a provare un deck ragazzi che sta andando tantissimo, ovvero questo qui con la veleno perché si ragazzi ovviamente la veleno è entrato ufficialmente in meta, si trova quasi ovunque e il minatore che noi un bel po' che non andiamo ad utilizzare per non parlare degli spaccamuro che come al solito è una carta che non riuscirò mai ad imparare ad utilizzare come per esempio il cacciatore il resto invece sono tutte carte che utilizzo spesso come per esempio il tronco, il golem del ghiaccio, i pipistrelli, gli scheletri insomma dai, è un 2.5 molto rapido, sembra molto interessante, volevo provarlo in un video ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, lo trovate in fondo in un shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto vediamo un po', vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare, un livello 12 quindi questa già sarà una sconfitta per noi prepariamoci, si regalo sapete contro i livelli 12, perdo sempre e comunque, ma partiamo belli aggressivi uh, peccone, attenzione al peccone signori, attenzione al peccone, allora io lo faccio un attimino girare il peccone lo facciamo un attimino girare, gli facciamo fare un pochettino di robetta, gli buttiamo giù anche un tronchettino a questa robetta qui via con il cacciatore e comunque bene o male ci siamo difesi che dite, si dai, più o meno ci siamo difesi ragazzi, più o meno ci siamo difesi, però ci metterà parecchie difficoltà eh ci siamo difesi veramente un po', un po' così, un po' così ragazzi, un po' così allora, principe nero lì, andiamo a mettergli anche gli scheletrini a fargli un po' di danno perché sennò questo non lo riusciamo a far fuori lui riparte con una riete da battaglia cacciatore, di nuovo un tronchettino per indebolirlo mamma mia regà, il cacciatore è devastante non hanno potenziati danni del cacciatore, il cacciatore ha sempre fatto questi danni hanno potenziato la rapidità del colpo adesso è più rapido a rilasciare il colpo, diciamo ed è tanta roba eh tanta tanta roba ah, purtroppo sono costretto a giocare anche un minatore in difesa regà, il minatore lo stiamo usando praticamente solo in difesa ed è praticamente l'unica carta con cui posso fare qualche strategia per attaccare se non ti può buttare lì così gli spaccamuro per esempio noi qua, molto bene perché lui ha usato il barile barbarico no regà, con la scarica pensavo arrivasse uno spaccamuro caspiterina, eh vedete, per questo vi dico che non li utilizzo spesso quando ho visto che lui aveva giocato il barile barbarico ho detto caspita, qui entriamo con gli spaccamuro e invece, e invece, e invece no eh, mo qua regà, mi tocca usare un po' di carte così aia io vado subito di un tronco regà perché sennò qua tanto mi carico di elisir e non finisce più vado anche di un minatore a fargli un po' di danno regà, eh, devo andare di veleno qui devo andare assolutamente di veleno qui eh, qua la rete entra allora, questo deck soffre esattamente quello che è successo cioè, nel momento in cui parte l'elisir per due e il tuo avversario riparte da dietro tu devi avere per forza le carte pronte per ripartire sull'altra lane ma io in sto caso non avevo tante carte pronte per ripartire sulla lane oh mio Dio, l'ha one-shotata non sapevo one-shotasse addirittura anche proprio così la... la fuorilegge regà, per esempio questo devo fare ma il problema è che, vedete? comunque entra poi la riete vedete che poi comunque entra poi la riete oh mio Dio no, 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 i barba... no, 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 no mamma mia eh, penso... eh, lui ce l'ha scarica sta roba qua ma se ha qualcosina per venirmi a far danno ce l'ha qualcosina per venirmi a far danno ce l'ha ah, io butto tutto quello che c'ho lì butto tutto quello che c'ho lì ma credo... eh, no ragazzi vero, poi c'aveva pure la fulmine regà allora, 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 allora lui ovviamente qui mi ha preso tra virgolette non dico alla sprovvista perché me lo aspettavo che insomma provasse a ripartire da dietro ma è esattamente quello che noi soffriamo cioè se troviamo un deck che con l'elisir per due ci riparte da dietro noi dobbiamo a prescindere di attaccarlo per far dispregare il più elisir possibile in quel frangente o non avevo carte o non mi ricordo perché forse non avevo le carte per ripusciarlo non lo so ma non l'ho fatto ok, quindi ci siamo subiti tutto il suo push la stavamo addirittura per ribaltare, eh perché addirittura la stavamo anche per ribaltare però, come avete visto, ovviamente non ce l'abbiamo fatta tronchetto va benissimo io qui, regà, vado di una veleno perché sennò tanto mi riempio mi riempio di elisir e basta quindi non... non avrebbe senso, ragazzi non avrebbe... no, non ci credo no, ragazzi, no, per favore no, ragazzi, no, per favore per favore por favor por favor dai, va bene, grande minatore grande minatore l'arco X eh, quando ho visto lo stregone di ghiaccio dovevo già intuirlo dovevo già intuirlo dovevo già intuirlo con quello stregone di ghiaccio dovevo già intuirlo che questo poi avrebbe giocato il... l'arco X allora, giochiamo di nuovo il cacciatore noi gli andiamo a far usare un po' di elisir di là con gli spaccamuro vediamo se gioca di nuovo il tronchetto gioca sia la fireball che il tronchetto appunto e noi facciamo la nostra solita riportenzina ah, dai, su, la torre... ma non ci credo, regà la torre ha ittato un pipistrello non so se l'avete visto la torre aveva ittato un pipistrello, ragazzi da così lontano? ma what? ma non ci credo comunque noi dobbiamo mettergli pressione così non c'è niente da fare dobbiamo mettergli pressione, 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 pressione come va, va tipo, per esempio facciamo una cosa del genere con una cosa del genere lui se usa anche il tronco non ce la dovrebbe fare perché sono protetti dal golem del ghiaccio e infatti entrano io gli volevo far sprecare la tesla o l'arco X e non l'ha usati eh, non l'ha usati non l'ha usati eh, regà vorrei dire che ha fatto male, ma da sto push capiremo se ha fatto male o no da questo esatto push sapremo se ha fatto male o no eh, ci ha fatto danno, eh però ricordiamoci tutto il danno che gli abbiamo fatto noi con gli spaccamuro io gli avevo giocati lì per fargli sprecare la tesla l'ha già ciclato l'ha già ciclato, signori l'ha già ciclato ma non ci credo che l'ha già ciclato, ragazzi ma non ci credo dai come l'ha già ciclato, regà eh non ho parole nooo mamma mia se fosse entrato quello spaccamuro, regà se fosse entrato quello spaccamuro l'avevamo già chiusa non so se già è chiusa pure così, eh sì sì ok, sì sì è già chiusa così è già chiusa così lui lì ha attintato ha rischiato la giocata ha rischiato la giocata non ha usato né la tesla né l'arco X e potenzialmente le aveva entrambi in mano e anche abbastanza elisir per giocarli io ho giocato in quel modo gli spaccamuro proprio per fargli utilizzare una delle due carte invece addirittura se le era tenuti per pushare se le era tenuti per pushare regà allucinante GG cioè GG oddio ci ha provato e non ci è riuscito complimenti complimenti per il coraggio signore no è entrato solo uno ne è entrato solo uno ragazzi e regà purtroppo mi tocca fare una cosa del genere purtroppo mi tocca fare una cosa del genere assolutamente regà no aspettate un attimo quella furia da dove è uscita l'ha giocata lui così ha giocato lui la furia così ha mischiccato sì guardate quello spaccamuro che è entrato a torre let's go l'ha giocata un po' così l'ha giocata va bene va bene va bene potrebbe avere però un deck che ci dà fastidio eh perché il principe l'abbiamo rivisto anche negli scorsi video lo stanno riutilizzando in tanti il principe non voglio dire che è tornato in meta ma potrebbe essere poi regà io non è che sono esperto per potervi dire una cosa del genere però eh mo ah facciamo una cosa va facciamo una cosa facciamo questa cosa qui molto interessante perché no 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 dai tronco dai tronco dai tronco maledizione tronco ok top no dai il principe aveva ricaricato la la carica ma che sfiga povero cacciatore si è beccato prima la carica del prince perché non ha fatto in tempo il tronco e adesso proprio giusto in tempo era fatto in tempo a ricaricarsela maledetto maledetto prince uh la strega ma che deck c'ha regà non riesco a capire questo qui che deck abbia non riesco proprio a capire ragazzi non riesco proprio ad intuirlo non mi viene non mi viene ok si direi che il tronchettino ci può stare no regà no regà mi è sfuggita mi è sfuggita lì li volevo giocare proprio lì così all'ultimo mamma mia ragazzi la furia quanta gente sta giocando la furia quanta gente sta giocando la furia ragazzi quanta quanta gente sta giocando la furia regà quanta gente sta giocando la furia niente mi ha fatto mi ha fatto la torre eravamo in netto vantaggio regà io qui devo andare subito di veleno perché sennò quella torre poi non gliela prendo più peccato ragazzi peccato peccato veramente no allora preferisco fare una cosa del genere una cosa del genere ma che fa ma seriously ma seriously eh no regà non gliela fermo non gliela fermo non gliela fermo non gliela fermo con niente non la riesco a fermare con niente c'è anche le frecce per counterarmele non per counterarmi i pipistrelli peccato regà cioè io questo qui non ho capito minimamente dall'inizio alla fine che deck che deck è la furia va bene va bene va bene ok cioè quando mi ha giocato quella mongolfiera io non ci ho capito più niente ed è per quello che vi dicevo ma che deck c'ha che deck c'ha per cercare di capire che truppa avesse per attaccare cioè un conto è la prima partita che l'avremmo anche potuta vincere perché avevo capito il deck avevo capito come counterarlo però poi mi è ripartito dietro col pecca e rip eroddi ma questo qui ragazzi questo qui ragazzi non ho veramente avuto la più palle d'idea fino all'ultimo e infatti poi ci ha preso in contropiede e quando ho giocato i pipistrelli ha piazzato lì le frecce dovevo tenermi il cacciatore per difendere la mongolfiera ragazzi però il cacciatore mi serviva anche per difendere altre situazioni vabbè regà è andata come è andata deck comunque molto interessante dovrei cercare di capire un po' meglio come ciclarlo come utilizzare determinate carte ma ci sta vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shopping clash royale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto ricordatevi di lasciare un bel mi piace per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale ciao ragazzi